Musica Guardi, poi dopo la costa lì, lì fellas Alla presta di qua Questi sono dei corridori forti qui davvero Un appetito No, belli Belli insomma anche padrone sempre meglio siamo grazie di nuovo per la presenza io prima che iniziamo le premiazioni volevo ringraziare chi ci ha permesso tutto questo a parte la società ciclismo Terontola da me rappresentata insieme a Luciano Rossi Paolo Laera, Falomi, Massimo, Cencini, Simone Riccardo Rossi e Vincioni Roberto ringraziamo tutti le forze dell'ordine i carabinieri di Terontola che ci hanno dato la massima disponibilità poi ringraziamo i vigili la Polizia Municipale di Cortona la Polizia Municipale di Tuoro sul Trasimeno le associazioni che ci hanno permesso questo sono i nostri nonni vigili per quanto riguarda il nostro territorio la nostra VAB la Vigilanza Antincendio Boschiva e per quanto riguarda il Comune di Tuoro che ci ha reso una grande disponibilità si ringrazia innanzitutto l'amministrazione poi la Polizia Municipale e le associazioni come la Proloquo e la Cover in più un ringraziamento va a tutta l'organizzazione e alle nostre donne che ci hanno permesso di mangiare da ieri sera ad oggi io farei un grande applauso a tutte queste persone a... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.